Si registra ancora carenza di personale medico ed infermeristico in regione Campania e a pagarne le conseguenze sono i presidi ospedalieri locali. I direttori sanitari, vista l'emergenza che stiamo vivendo, si stanno organizzando per riformulare i turni ospedalieri per sopperire alla mancanza di figure specializzate da inserire come organico nei reparti covid dedicati. È il caso dell'ospedale civile di Agropoli dove i medici e infermieri in servizio presso il pronto soccorso dovranno affrontare turni straordinari nel reparto covid-19 terapia intensiva e subintensiva. A denunciare questa situazione il consigliere comunale Gisella Botticchio. Il personale del pronto soccorso di Agropoli da domani va in soccorso ai reparti di malattie infettive covid-19 terapie intensive e subintensive. Questa è la grande organizzazione dell'apparato politico regionale che ci amministra. Chi tutela i poveri dipendenti di questa struttura? E sottolinea ancora la Botticchio. I medici come gli infermieri sono costretti a fare turnazioni e dividersi tra pronto soccorso e il reparto covid-19. Vergognatevi ancora una volta. Scherzate con la salute della povera gente, ignara dei vostri giochetti di palazzo. Oggi il popolo deve aver paura ad avvicinarsi ad una struttura ospedaliera, conclude il consigliere di opposizione Gisella Botticchio.